No, però proviamo a pensare quante donne vengono violentate ogni giorno e forse la stessa cosa poi, probabilmente la media sarà quella poi si calcola che la maggior parte dei casi non si denunciano che sono violentate non sono denunciate certo, è quello il problema però anche quello è un fenomeno che sta aumentando parecchio soprattutto tra i giovanissimi e poi la violenza di branco della ripresa tramite il cellulare che riprendono i filmati anche questo è un fenomeno abbastanza inquietante quelli sono i lati negativi della tecnologia che avanza sì, e poi anche il fatto che vedo che i giovanissimi hanno meno rispetto della scuola come istituzione, meno rispetto degli insegnanti ma sono anche gli insegnanti che non fanno sì che ci sia questo rispetto perché come noi, che siamo una generazione più aperta anche loro comunque si sono un po' adeguati a questa generazione a questa apertura e quindi di conseguenza tra la tecnologia che ha rovinato completamente tutto e loro che si sono un po' più aperti, adattati e noi che siamo avanzati sicuramente non... beh però nelle scuole stanno succedendo parecchi fattaci questo è un fenomeno abbastanza... non sono solo giovani secondo me no, 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 è un po' tutto però ecco in particolare mi colpisce negli ultimi tempi tutta una serie di eventi che sono avvenuti nelle scuole comunque diciamo che forse i bambini... io ho visto la domenica in addirittura un filmato in cui una maestra si faceva tastare il sedere da un alunno ma quando mai? ai tempi miei non si potrebbe succedere una cosa del genere però c'è un discorso e questa non reagiva tranquillamente questo andava giù con sta mano pesante e questa non reagiva ma ragazzi dico ma qui non si è accorta ma è possibile? ragazzi quindi c'è un qualcosa che nella scuola oggi come oggi non funziona ci sono dei malesseri perché certe cose sono al di là del bene e del male non pensi che adesso però c'è stata la possibilità di filmarlo con un telefonino magari queste cose succederanno ma quando mai? a scuola io non so non mi sento vecchio però ti posso garantire che quando andavo a scuola io queste cose erano pura fantascienza non è che è successo in una scuola è successo in una scuola è stato un caso però a parte che non è un solo caso addirittura quella professoressa che si è portati 3-4 ragazzi nell'orario di educazione fisica si è portati a fare delle ripetizioni matematici ho lavorato questo mese e ho avuto la cosa di lavorare accanto al mio ex fidanzato dentro una scuola e quindi di vivere i ragazzi con le insegnanti devo dire che questi insegnanti sono completamente senza carattere non riescono a dare un'educazione, una rigidità agli studenti che comunque prima non succedeva c'era una grande rigidità non c'era proprio l'occasione di poter rispondere o fare qualsiasi cosa certo comunque io penso che mi debba veramente lasciare adesso ci saluta si vanno davanti i bacini una sera si esibisce vogliamo dire dove si esibisce io in piazza Aldomoro zona noventana Fonte Nuova io sono lì sono ospite chi mi sta ascoltando e chi si trova da quelle parti è il benvenuto e mi farebbe piacere grazie a Radio Roma grazie a voi grazie a Francesco Alpanella grazie grazie Antonello grazie alla regia vi saluto grazie soprattutto a te da noi e comunque per salutare Amy Bergamo ci ascoltiamo un altro brano che appunto opera da appunto di Claudio Simonetti naturalmente colonna sonora dell'omonimo film di Dario Argento ciao a tutti oggi abbiamo fatto parlare la musica di Dario Argento con film di Campanella bene salutiamo Amy Bergamo lì da la regia ciao grazie